E a proposito di lavoro, di sisma e rilancio del territorio, abbiamo qui ospite in studio il nuovo segretario generale della CISL, Mark Saur Rossi, col quale abbiamo appena visto questo servizio. Gli chiediamo, segretario, non possiamo che partire dal sisma per questa chiacchierata. Quali sono le risposte che il sindacato deve dare a questa gente? Guardi, noi già dall'agosto scorso siamo stati chiamati ad operare in almeno tre direzioni. Da un lato abbiamo cercato, per quanto era le nostre possibilità, di dare manifestazioni di sostegno alle esigenze della popolazione colpita dal sisma e l'abbiamo fatto anche riarticolando i nostri servizi per cercare di dare prossimità. Nello stesso tempo abbiamo cercato, per quanto c'è stato possibile, di animare iniziative di solidarietà dirette proprio al sostegno delle popolazioni. In terza battuta, favorire tutte le occasioni per ripensare il futuro per queste popolazioni, per questi territori e su questo c'è ancora molto lavoro da fare. Ecco, quindi quello è stato l'approccio del sindacato alla prima fase dell'emergenza. Adesso che cosa bisogna fare? Insomma, cosa occorre per i partiti? Bisogna ricominciare dalla fiscalità locale, per esempio? Beh, questa è una delle leve su cui varrebbe la pena intervenire. Bisogna farlo con uno sforzo corale, perché bisogna davvero condividere tra istituzioni, soggetti economici e sociali dei territori, uno sforzo che può passare sotto il nome di alleanza, perché a noi piace questo termine, per esprimere la capacità di dare sostegno a tutte quelle iniziative, tipo quelle che apparivano nel servizio, volte a riqualificare l'esistenza di queste persone, di questi territori, attraverso la chiave del lavoro. Sarà uno dei temi del congresso futuro della Cisla adesso? Certamente il tema della rigenerazione, anche delle aree terremotate, sarà uno dei temi che a maggio la Cisla renderà centrale nella propria discussione. Segretario, la settimana scorsa è partita la campagna referendaria della CGL, appunto, per i due quesiti su voucher e appalti. Come vi ponete in questa prospettiva? Sui temi degli appalti e dei voucher di criticità ne esistono molte. Come Cisla abbiamo valutato che al di là del referendum si possano ancora avere margini sia per modificare le distorsioni che registriamo in materia di appalti, sia gli abusi che caratterizzano l'utilizzo di uno strumento come i voucher. E noi riteniamo che anche i passaggi prossimi per via parlamentare possono servire per superare queste negatività senza necessariamente arrivare ad utilizzare lo strumento del referendum. Bene, ringrazio.